Arredare e mettere a posto casa può essere una vera scocciatura e trapanare pareti o coprire dei fori un vero disastro. Ma adesso c'è un modo più semplice e veloce per appendere e fissare quadri, ganci o persino gli attrezzi senza danneggiare le pareti. Ti presentiamo Star Life Fantastic Tape, il nuovo e rivoluzionario nastro biadesivo così forte da riuscire a reggere fino a 7,9 kg e allo stesso tempo facile da rimuovere con una semplice torsione. Star Life Fantastic Tape non usa adesivi, quindi non danneggia le pareti e non lascia residui. La sua nuova e incredibile tecnologia presa avanzata blocca istantaneamente tutto in posizione, senza viti o ancoraggi. Appendi quadri pesanti con facilità, fissa menzoli in un batter d'occhio, realizza i tuoi lavoretti di casa in pochi secondi. Si attacca istantaneamente alla maggior parte delle superfici. Usalo per seguire le indicazioni stradali mentre guidi o per fissare l'iPad mentre cucini. E guarda, niente residui appiccicosi o danni. Guarda com'è forte lo Star Life Fantastic Tape. Regge persino questa borraccia su una macchina in movimento. È incredibile ed è riutilizzabile. Rimuovilo, sciacqualo e riutilizzalo più volte. Mantiene sempre forte la sua presa. È ottimo per tenere al sicuro gli oggetti fragili dagli attacchi dei bambini. Guarda come rimane immobile quando proviamo a far cadere questo vaso. E sfida la gravità, anche se si bagna. Lo Star Life Fantastic Tape può reggere fino a 7,9 kg. Inoltre, più ne usi, più peso è in grado di sostenere. Guarda come attacchiamo quest'uomo al muro. Questa sì che è una forza mai vista. Star Life Fantastic Tape è facile da usare, molto efficace ed estremamente utile per i lavoretti quotidiani. Usalo nella tua officina per mettere in ordine gli attrezzi. O usalo anche all'aperto. Niente viti o fori permanenti. Lo Star Life Fantastic Tape impedisce anche ai mobili di scivolare e non danneggia i pavimenti. Ti stupirà quando scoprirai come può renderti la vita più facile. Star Life Fantastic Tape è un must per ogni progetto domestico. Acquistalo subito!